Pronto il Piano B per la ricostruzione nell'ambito dell'edilizia scolastica e degli edifici di culto per i territori colpiti dal sisma del 2016. Per gli interventi di edilizia scolastica quasi prevalentemente concentrati nella provincia di Teramo, sono disponibili 21 milioni e mezzo di euro, con una disponibilità residua ancora da assegnare di poco meno di 3 milioni. Nell'elenco delle scuole figurano anche tre istituti di Teramo che saranno oggetto di adeguamento sismico, l'ITC Pascal, la San Giuseppe e la scuola d'infanzia di Villaripa. Altri interventi in provincia di Teramo a Campli, a Montore al Vomano, a Civitella del Tronto, a Sant'Egidio alla Vibrata, a Mosciano Sant'Angelo, a Rocca Santa Maria e a Cronialeto. In provincia di Pescara ha finanziato un intervento a Penne nella succursale delle Marconi e a Città Sant'Angelo allo Spaventa. In provincia dell'Aquila ha previsto un intervento di demolizione e ricostruzione della scuola materna del Tosto di Pizzoli. È uno step molto importante se consideriamo la mole di lavoro che c'è dietro per arrivare poi naturalmente alla emanazione di un'ordinanza e quindi alla sua approvazione con l'allegato dell'elenco degli edifici via legato. Naturalmente fare questo in così poco tempo è una cosa che va sottolineato. Perché ripeto, il lavoro che c'è a Monte è un lavoro molto complesso che comporta un quadro conoscitivo di ogni singolo edificio, oltre che al rilievo dell'edificio e quindi alla sua vulnerabilità sismica, oltre che alla stima dei lavori da fare, quindi poi all'analisi, alla scheda parametrica dei lavori e quindi all'analisi del computo metrico perché l'edificio venisse ricompreso all'interno dell'elenco.